Ciao a tutti, la Terrana Primavera ha pareggiato 1-1 contro il Benevento, altro risultato utile per le FNL dopo la vittoria con il Crotone e un pareggio contro una grande squadra, contro una grande corazzata, diciamo così, anche del calcio primavera perché comunque si parla sempre del settore giovanile del Benevento che è una delle migliori squadre in Serie B e ottimo risultato per i nostri ragazzi e per tutto il settore giovanile rosso-verde che con il nuovo centro sportivo e tutto quello che verrà, ci auguriamo, possa crescere ancora di più per il resto poi volevo dire che a M.Terni Channel, la televisione di Amerigo Marzi, visibile sul canale digitale terrestre 210 sarà visibile anche su smartphone, tablet, pc, smart tv, eccetera, attraverso la connessione internet tutti i dispositivi che hanno una connessione internet, basta andare sul sito a M.Terni Channel.it e poi lo potete trovare anche attraverso la pagina Facebook per il resto facciamo tantissimi auguri a Bogdan che compie gli anni e la Ternana Calcio sta lanciando in questi giorni un'iniziativa solidale nuovo per l'Ucraina sostanzialmente acquistando un nuovo di Pasqua si può donare dei fondi per la popolazione ucraina per il resto la Ternana Calcio maschile la prima squadra diciamo così si sta allenando perché sabato prossimo si torna in campo il 2 aprile al tombolato contro il Cittadella e nel frattempo noi tifosi della Ternana ci codiamo questo storico pareggio questo pareggio contro la Corazzata, contro la Big della primavera, della primavera Ternana contro il Benevetto che fa ben sperare per il futuro di questi ragazzi